Ciao a tutti, le malgascione si fanno fregare dalla vanità. In questo video voglio spiegarti come le malgascione, cioè le donne, diciamo, in categoria di donne normalmente tra i 40 e i 60 anni, tendenzialmente tendono a farsi fregare dalla vanità. Che significa questo? Lo vedremo adesso. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminar del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo dunque al tema, le malgascione si fanno fregare dalla vanità. Allora, molti uomini ci marciano abbastanza su questo, la vanità, se vogliamo, è un punto debole di molte donne, soprattutto di donne che temendo l'invecchiamento, diciamo così, e nella fascia d'età dei 40 e 60, diciamo così, che è una fascia in cui l'invecchiamento si teme molto. È ovvio che la vanità di apparire sempre belle, di essere sempre belle, di essere sempre al top attira molto. È un, come dire, come il miele per le mosche fondamentalmente. E questo, molti uomini, diciamo la verità, ci marciano per avere qualche servizio, diciamo così, dalla malgasciona. Non soltanto il toyboy, eh, non dico che soltanto i toyboy. Anche i toyboy ci marciano di questo, eh. Il toyboy ci marcia. Ma che cos'è? Quando è che una malgasciona dovrebbe stare attenta e non farsi fregare della vanità? Beh, quando ad esempio un uomo le dice sei bellissima. Usa un superlativo assoluto. Poi quando invece magari, diciamo, non è neanche proprio, come dire, questo fiorfiore, insomma. Ma poi bellissima, voglio dire, certo, puoi dirlo magari a una ragazza di 20 anni che fa la top model, vedi, ma la malgasciona magari di 45. Beh, può essere una bella donna. Cioè, non lo sto dicendo. Ma infatti uno può dire mi piaci. Questo utilizzare, sei una donna che mi piace, sei una donna affascinata. Ma sei bellissima. E evidentemente sta pompando, sta innaffiando, diciamo così, l'orto della tua vanità. O come quello che ti dice mi manchi da morire. E che la malgasciona manca da morire? Ma uno può dire sì, sto bene con te, passo del tempo buono con te, mi trovo bene con te, ma mi manchi da morire. E' un'altra, come dire, è un'altra cosa che viene detta tanto per dire qualcosa, diciamo, no? Viene detto tanto per dire qualcosa. Non c'è una correlazione significativa da questo punto di vista. Come non c'è una correlazione significativa quando un uomo ti dice frasi come del tipo sei una donna fantastica, io sono sempre con te, non posso far a meno di te. Allora, ricorda che se uno ti dice, intanto ricorda che le parole contano più dei fatti, contano più delle parole, le parole quando vengono espresse al superlattivo assoluto sono sempre farlocche, sono sempre farlocche, non sono mai vere, non hanno fondi di verità. Uno può dirti sono fiero di te, mi trovo bene con te, cioè sono tutte cose che se poi seguono i fatti, se poi i fatti seguono, diciamo, quando uno fa, un uomo si manifesta in qualche modo e poi i fatti seguono, ma quando si usano superlattivi assoluti c'è sempre l'inghippo dietro. Quindi malgacciona, stai attento a non farti fregare dalla vanità, perché è un po' il tuo punto debole, no? Sulla soglia della vecchiaia o dell'invecchiamento, diciamo così, tendi ad avere questo rigurgito di vanità che però è quello che ti frega, cioè ti frega in che senso? Ti frega nel senso che rischi di finire in relazioni poi con uomini sbagliati, tutto lì, niente di che, però se si può evitare è meglio. Quindi occhio alla vanità. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!